Ciao ragazze e ciao ragazzi, stasera video di acquisti, vi mostro le ultime cose che ho acquistato in fine estate e settembre sono diversi acquisti, alcuni truccosi, altri non truccosi, una scarpina, una borsetta, iniziamo subito questo video sono passata all'OBS e della Shaka ho preso lo smalto bianco gesso per la French per fare il monocolore e l'ho pagato 2,99 euro mi piace molto sia in estate che durante l'inverno sia fare la French che una delle manicure che non so fare nell'arte eccetera però la French manicure è una di quelle che mi piace di più anche a vedere poi anche il monocolore d'inverno d'estate mi piace abbastanza d'estate ovviamente enfatizza di più l'abbronzatura ma d'inverno anche sulle mie manine cadaveriche non è niente male poi nonna della Stenon mi è dato questa pochette barra portatucchi argentata praticamente dentro è fatta in modo morbido qua in nero quindi si può appoggiare tutti i trucchi è abbastanza capiente e poi qua un bello specchio e questa è una parte rigida quindi è molto comodo usarlo anche come supporto per truccarsi come sono immaginato in palestra di solito ho sempre difficoltà a truccarmi in palestra perché c'è un solo specchio, tutte ci vogliamo sistemare per esempio quando decidiamo di uscire tutti insieme di solito vi porto la pochette e poi lo specchio a parte o se mi ricordo di portarmi la cifra la cifra ha sempre lo specchietto però così è molto più facile e comodo truccarsi di trucchi butti le cose dentro senza ingombrare panchine e altri ambienti comuni proprio ieri ho comprato questo set di sette pennelli della beauty ci sono sette pennelli un paio per il viso, il fondotinta, l'applicazione del correttore l'applicazione di ombretti e uno per le sopracciglia più un porta pennelli scuro nero vorrei aprirvelo per farvelo vedere soltanto che ieri l'ho, quando l'ho comprato l'ho aperto e puzza da fare schifo quindi in questi giorni che lo metterò a lavare prima di tutto lo metterò all'aria per far togliere un po' questa puzza sicuramente lo disinfetterò perché è una puzza troppo forte poi della botanica naturalmente mamma mi ha comprato questa crema viso essere vitalisonde è una crema con olio di argan olio bioolio di argan anti-età pelle luminosa e compatta io ho già usato delle creme della botanica naturalmente mi sono piaciuta mi è piaciuta, l'ho usata una sola ora vedremo anche questa poi una mia amica è stata in vacanza e mi ha portato a questo delizioso braccialino in cuoio qua c'è il mio nome non so se si riesce a vedere con una lavorazione qui è in questo bellissimo color rosa viola lilino molto carino stasera lo volevo mettere stasera devo scendere la mia amica che me l'ha regalato lo volevo mettere sinceramente però sono vestita con coloro che spezzano spezza un pochino troppo quindi lo metterò in un'altra occasione l'ho già messo altre volte però sicuramente ci sarà altra occasione per mettere questo bellissimo braccialino poi ho comprato mi sono fissata di nuovo con questa ciambella di spugna per lo scignone questa media io già ne avevo comprata una che però non riuscivo a fare bene lo scignone perché i miei capelli sottili sottili non riuscivo bene a coprire tutta la spugna quindi si vedeva sempre e l'avevo smolacchiata mia sorella io me ne avevo comprata una un po' più piccolina soltanto che poche tempo fa vedi da accessorize accessorize non so come si pronunci la ciambella per fare lo scignone ricoperta di capelli finti e ho pensato di comprare e poi alla fine l'ho comprato quegli elastici con ciocchi di capelli finti io ho comodo dei cinesi un euro e praticamente ho pensato mi faccio la coda metto questo poi ci metto la coda con capelli finti e alla fine copro con i miei capelli dovrei riuscire a tenere tutto ben coperto e non far vedere la spugna incrociamo le dita poi della jaffa il contorno occhi beauty dynamic che è un contorno occhi assolutamente straordinario miracoloso non so che altro vi ho già usato una confezione vi ho già fatto la recensione se vi interessa vi lascio la nuvolina che vi rimanda il link della recensione ma per me è uno dei contorno occhi migliori al mondo lo adoro poi una collanina collanuna anzi un pochino estiva in argento con richiami ambrati e marroncini con questo anello finale a me queste collane più che altro estive piacciono anche in inverno per dare un po' di luce non so a lupetti ma gli oncioni a collo alto scuri che comunque incubiscono un pochino il viso mettendo qualcosa di che attiri l'attenzione con un po' di argento dorato illuminano anche il viso mi piacciono bellissimo poi mamma mi ha comprato un anello con cristalli tipo svaroschi guardate qua come carino non so se si vede bene ha un cristallo grande qua e poi due file laterali pieni di questi cristalli anche lei se l'è comprato uguale mi piace tantissimo ma la gente non so se si riesce a vedere però ha una luce anche se non sono svaroschi bene ma ha cristalli altro tipo di cristallo comunque lavorazione umana sono di una lucentezza esagerata fattoci a la mammina non me lo compri il mio fidanzato l'anello me lo compri meglio dalla mamma la mamma è sempre la mamma poi mamma è stata da Bottega Verde e mi ha dato questi campioncini che lei non usa della linea del marmotto sono sorgente di benessere latte corpo con sali di marmotto tonificante sono tre campioncini sempre utili poi della botanica naturalmente la crema mani protettiva nutriente e vellutante con bio estratto di miele e oli naturali era un bel po' che non compravo che non avevo una crema mani perché di recente diciamo sei mesi ho usato soltanto l'olio alle mandorle dolci sia per il corpo che per le mani per i datali eccetera però all'inverno la crema è molto più facile e veloce da gestire rispetto all'olio poi ho preso da acqua e sapone questo smalto della crazy numero 83 che è un color cornocciola marroncino speriamo che vada tutto bene che mi faccia affetto brutto sulle unghie che i marroncini non sempre stanno bene ci sono alcuni marroncini molto del sottotono ovviamente della pelle ci sono alcuni marroncini che stanno bene ovviamente a chi ha un sottotono caldo o freddo per chi come me che è più che altro un caldo neutro ci sono ovviamente pochissimi tipi di marroncini che stanno bene a me il marrone è un colore che sulle unghie piace tantissimo però non ho mai trovato un marrone che mi faccia dire ok questo è il mio marrone della vita speriamo che sia questo perché costa 99 centesimi poi un lip balm con spf 15 che non andrò ad aprire ora perché ne ho già un altro da poco iniziato diciamo in postazione alle mie spalle quindi lo terrò da parte per praticamente appena finisce uno inizio l'altro nel frattempo sto rimettendo tutto in busta perché vado leggermente di fretta la stronza con la quale sto registrando avevo finito il video già e vi ho fatto 18 minuti di registrato ma ha deciso di non salvare e ora mi ha fatto innervosire speriamo che questa volta decida di funzionare bene perché se no ti taglio i liberi ok proseguiamo le ultime due cose che voglio far vedere scusate ma mi prendo un po' il naso un po' di allergica forse non sono così nei beauty ma sono così nei fashion la prima di cui voglio mostrare è questa bellissima borsetta molto piccola un po' patchwork che mamma mi ha preso quest'estate che ho sfruttato tantissimo visto la vastità dei colori presenti all'interno sia in questa parte che poi c'è il bianco il manico e anche la parte interna e il culetto l'avete già vista nell'outfit verde che ho caricato prima di questo video se non sbaglio è una borsa made in italy è della ho lasciato il tarbittino all'interno questa era praticamente legato sigillato alla borsa è della B made in italy ma non so neanche dove me l'ha comprata però è stata una borsetta che anche se è molto piccola potrebbe sembrare veramente molto piccola ma dentro c'ho messo cellulare portafoglio sigarette chiavi un rossetto veramente c'è entrata abbastanza roba poi mi piace perché nel patchwork è una una fantasia che piace molto anche perché una borsa del genere veramente io l'ho abbinata con tantissimi outfit quest'estate sia più sportivi che meno sportivi più serali più casual scarpa alta scarpa bassa senza nessun problema veramente è stato non so la mia borsa dell'estate praticamente ultimo acquisto di cui vi voglio parlare sono un paio di sandali della Marco Tozzi Premium Litter non so come si pronunci le ho prese su Zalando durante i saldi le ho trovate al 60% non so neanche se sono ancora disponibili sul sito prima di caricare il video magari controllo se sono disponibili vi lascio il link giù in info box un attivo che le devo togliere perché le avevo già indossate perché sto per scendere un attimo solo eccole qua queste sono le scarpe che ho comprato sono un sandalo da più o meno 10 cm con questa parte tutta stringata con una parte blu scura blu ginsata e questa parte bianca almeno lo era all'inizio si è sporcata nel giro dei primi 15 minuti che l'ho indossata sono un pochino sfondata non so come si dice tagliate così in avanti sono di una morbidezza assurda la linea e la filmi praticamente dentro sono come se camminassi su una nuvola sono di una morbidezza esasperante mi sono piaciute tantissimo e le ho sfruttate anche tantissimo anche se mi sono arrivate tipo metà agosto ma le ho messe tanto 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 una bella canzone le ho messe ovviamente con il blu con il celesti con outfit bianchi le ho messe con outfit marroni in beciolini la altra cosa scarpa ora per esempio sono a settembre fine settembre stasera la indosso per poter uscire perché posso ancora mettere il sandalo aperto quindi praticamente sono un mese e mezzo che la metto e la rimetto perché è molto comoda molto facile da portare anche gestibile nel senso che non è troppo alta però ti slancia la figura avendo la chiusura in questo modo la si può mettere con non so pantalone lungo pantaloncino vestitino minigonnina che poi non è così alta quindi tra ricorda non è io già sono una ragazza molto alta se esagero quel tap poi metto anche la minigonna metto anche il pantaloncino si accumulano sul plus e poi l'effetto finale non è dei migliori invece con un tacco così basso rispetto ai miei standard sono arrivata anche a 14 cm anche con un pantaloncino una minigonna l'effetto non è così esagerato ora ve la faccio la rimetto e ve la faccio vedere queste qua sono le scarpe scusate se sono praticamente bianca come la come si chiama il mobile alle mie spalle ma ormai la bronzatura è rimasta ad agosto questa è la scarpa mi piace tantissimo questo gioco di laccini che ha sul sul piede veramente molto carino ok spero che questo video vi abbia fatto un po' compagnia che vi siate divertite e curiosare tra i miei ultimi acquisti io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video ciao ragazze ciao ragazzi in gamba